La Corte di Appello di Genova ha disposto nove condanne e una soluzione nell'ambito dell'inchiesta Maglio 3 relativa alle infiltrazioni della drangheta in Liguria. I giudici hanno condannato Onofrio Garcea a sette anni e nove mesi, Benito Pepe a sei anni e Rocco Bruzzaniti a quattro anni e otto mesi. Sei anni ciascuno sono stati invece inflitti a Fortunato e Francesco Barillaro e Michele Ciricosta. Tre anni e un mese a Raffaele Battista, quattro anni e otto mesi ad Antonino Multari e Lorenzo Nucera. E' stato invece assolto Antonio Romeo. Le accuse a vario titolo sono di associazione per delinquere di stampo mafioso. Un anno fa la Cassazione aveva annullato le assoluzioni e disposto un nuovo processo di secondo grado. Il sostituto procuratore generale Giuseppa Geremia, ex procuratore capo di Imperia, ha evidenziato che le condanne inflitte dalla Corte di Appello riconoscono la presenza dell'andrangheta in Liguria, dove alcuni comuni sono stati anche sciolti proprio per sospette infiltrazioni mafiose. Grazie a tutti.